Il dirigente generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, Calogero Foti, ha emesso una nuova direttiva con la quale conferma che nella discarica pubblica di Gela potranno essere accolte fino a 950 tonnellate di rifiuti al giorno. Un provvedimento è emesso in base a quanto stabilito dal TAR di Palermo, con l'ordinanza depositata martedì scorso. I giudici amministrativi hanno infatti stabilito che debba essere rispettato il limite di conferimento giornaliero di rifiuti, appunto 950 tonnellate, già imposto con il decreto del 17 maggio 2021 e anche alla luce della nota del 31 marzo 2022 con cui la stessa SRR Ato Caltanissetta aveva chiesto di essere autorizzata a mantenere tale valore massimo. L'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblico utilità Daniela Baglieri ha confermato che la Regione Sicilia adotterà provvedimenti sostitutivi per cercare di risolvere i problemi dovuti ad anni di inerzia nel settore dei rifiuti in Sicilia.